Musica Amiche e amici di Rossini TV, ancora una puntata con Casa Rossini, questa nuova edizione alla quale vi state abituando in onda ogni giorno con un ospite aggiornata, una piccola modifica rispetto alla prima stagione nella quale ospitavamo tre personaggi della nostra città e non solo. Quest'anno ci siamo concentrati ma abbiamo intensificato una puntata al giorno in prima messa in onda alle 19 e poi a seguire con una serie di repliche. Per cui sicuramente troverete quella che fa al caso vostro come orario e sicuramente ci starete seguendo anche in questa puntata nella quale oggi ci sentiamo molto sicuri perché abbiamo come ospite Alessandro Giuliani di Vigilar. Buongiorno. Buongiorno Alessandro, oggi siamo tranquilli proprio, non abbiamo paura di niente. Allora, entriamo subito nel vivo perché Vigilar è appunto un istituto di vigilanza e sicurezza e mi piace l'idea di agganciarmi a questa piccola entrata che ho fatto per dire che appunto vi state rivolgendo anche a una clientela che è fatta di privati, di condomini, di residenze, insomma una clientela che è sempre più attenta a quello che è la sua sicurezza nel quotidiano. Sì, ci rivolgiamo soprattutto oltre alle attività commerciali, quindi negozi, aziende, soprattutto ci rivolgiamo al privato, quindi al residenziale, il cosiddetto residenziale, dove possiamo fornire sia l'installazione di impianti d'allarme che il collegamento alla nostra centrale operativa 24 ore su 24. Quindi diciamo forniamo un servizio completo e qualora invece il cliente abbia già un impianto d'allarme lo può collegare con la nostra centrale operativa, qualsiasi tipo di impianto è collegabile con la nostra centrale. Quindi riusciamo a garantire il collegamento e il pronto intervento di una guardia giurata 24 ore su 24. La caratteristica che ci contraddistingue dagli altri competitor è proprio l'intervento anche di giorno, quindi se scatta l'allarme alle 10 di mattina piuttosto che alle 18, alle 19 di sera c'è una nostra guardia giurata che nel più breve tempo possibile interviene, parliamo nell'ordine di 5, 10, 15 minuti al massimo, è sul posto ed effettua l'ispezione. Quindi riesce a dare un'importante sensazione di sicurezza ai nostri clienti. E credo che un'altra cosa che vada sottolineata è questa idea di andarsi a integrare, inserire anche in un impianto già esistente perché qualcuno magari dice ma ho fatto una cosa adesso, ho sistemato un po' la cosa adesso, devo buttare via tutto, spendo chissà quanto. Da noi non si butta via nulla, nel senso che se è un impianto antifurto che funziona noi riusciamo con il nostro ponte radio a collegarlo alla centrale operativa. Quindi interverrà il nostro tecnico che si configura col tecnico installatore, l'elettricista piuttosto che gli installatori di impianti antifurto e effettuano il collegamento con la centrale operativa. Quindi ci arriveranno tutte le segnalazioni di allarme, di ingresso, panico, antirapina, allagamento perché ci sono dei sensori che ci permettono di sapere se si sta allagando l'abitazione, si è andata via la corrente, servizio molto utile per i ristoranti perché in alcuni casi quando va via la corrente si scongelano le selle frigorifere piuttosto che i congelatori portando un notevole danno di merce variata. Per cui una volta che l'impianto d'allarme è collegato con la nostra centrale operativa riusciamo a leggere le segnalazioni ed intervenire tempestivamente. Ecco, questo per esempio è una cosa a cui io non avevo pensato, mi fa pensare a un'altra cosa che è questa. Alle volte uno non si rende conto di tutto quello che possono essere i servizi che voi potete fornire perché ovviamente pensa magari alle cose più intuitive, alla sicurezza, alle frazioni, a cose di questo genere. Per cui probabilmente l'idea che una chiacchierata con voi, una richiesta di consulenza con voi possa far emergere invece anche esigenze che uno crede di non avere, ecco, questa cosa dell'elettricità, delle celle e tutto il resto, adesso io non sono un ristoratore per cui magari invece ai ristoratori è un problema che hanno ben chiaro e viene in mente subito, però ecco, mi ha fatto pensare che probabilmente una telefonata, una chiacchierata, una richiesta di consulenza possa far emergere anche cose a cui sul momento intuitivamente non si era pensato. Certo, una chiacchierata con i nostri commerciali serve per capire quali sono le esigenze e fornire il miglior servizio che possiamo offrire. Per esempio possiamo collegare dei personal tracker che sono dei telecomandi che servono soprattutto a persone anziane, abbiamo molti anziani a casa che vivono, sono autosufficienti, vivono da soli e molto spesso i figli sono preoccupati perché vogliono capire se magari può cadere o può avere necessità. Sono dei personal tracker che ci segnalano quando una persona cade a terra e possiamo fare l'ascolto da remoto, da centrale operativa, quindi se la persona anziana cade e sta in posizione in orizzontale per almeno 15 secondi, riusciamo a collegarci e ovviamente a garantire un intervento della nostra guardia giurata e nel caso anche di un'ambulanza. Quindi i figli che di solito sono sempre preoccupati vengono liberati da questo pensiero. Oltretutto poi ormai gli impianti d'allarme piuttosto che le telecamere ci permettono di essere sul sito dalla nostra centrale operativa e di poter visionare. Quindi riusciamo a garantire un servizio molto elevato. Sono sicuro che questa cosa che è sollevato in questo momento interessa molto ai nostri telespettatori perché è effettivamente una preoccupazione che ci coinvolge sempre, non solo nei confronti poi delle persone anziane ma anche in generale delle persone da sole perché può capitare anche a qualcuno che è anziano non è di inciampare e di sbattere la testa, insomma per cui è un problema reale che coinvolge perché si pensa sempre dai in fondo se uno ha bisogno fa una telefonata, invece questo funziona in automatico. In automatico, ha un acceleratore per cui se cade a terra e rimane in posizione orizzontale ci arriva una segnalazione e questo qui può essere anche trasportato nel senso che ha anche all'interno un localizzatore satellitare per cui alcune volte soggetti che hanno delle patologie tipo l'Alzheimer che purtroppo ce ne sono tanti ci permettono di sapere sempre dove si trova e quindi garantire anche un intervento tempestivo della nostra guardia giurata. Oltre che è attivabile in automatico, è attivabile anche a pulsante? Sì, quello è a pulsante, quindi se sente un rumore piuttosto che si sente in difficoltà, ci allerta noi riceviamo l'allarme e possiamo fare soltanto quando preme oppure quando cade un'ascolta ambientale questo però vi ha ragioni di privacy, però riusciamo a dare un intervento tempestivo. Certo, e poi naturalmente voi avete a quel punto lì anche il telefono della persona interessata, mi potete chiamare, i familiari, molto spesso noi abbiamo già le chiavi di casa perché magari il familiare, il figlio, la figlia si trova al lavoro, per cui noi garantiamo un primo intervento e poi abbiamo anche indicazioni delle patologie che ha il nostro cliente e possiamo dirigere anche con eventualmente il 118 per garantire il miglior intervento possibile. Premesso che tutto quello che ha a che fare con la sicurezza ha valore preventivo, cioè si spera sempre che non serva mai. La mia domanda però è la domanda del curioso, ce ne sono parecchi di interventi, ne capitano di interventi di questo genere generati da questo meccanismo? Sì, ne avremo un centinaio presso i nostri clienti e capita molto spesso, alcune volte sono dei telecomandi che si portano dietro per sicurezza, un caso simpatico anche da raccontare, una volta che è caduto l'allarme era una signora cardiopatica per cui aveva piacere di averlo sempre indosso perché se succedeva qualcosa. In un caso è scattato l'allarme, abbiamo visto dove si trovava ed era dal parrucchiere sotto il casco, per cui è arrivata la guardia giurata, è rimasta un po' così, però effettivamente è rimasta anche molto contenta perché se c'è un problema noi interveniamo anche dal parrucchiere se è necessario, poi è meglio che sia un falso allarme piuttosto che un'esigenza reale, però la tecnologia funziona e noi la adottiamo in pieno. E anche per questo basta una telefonata, chiamarvi e fare... Sì, basta che ci chiama al nostro call center 0721 866 077 e noi inviamo al nostro commerciale che spiega un po' come funzionano i vari servizi. Ecco, questo ci tengo a sottolinearlo perché credo che sia una chiave importante da spiegare e da sottolineare. Stiamo parlando di sicurezza, appunto sicurezza percepita, sicurezza preventiva, non stiamo parlando di un mondo nel quale sono tutti fuori lì che stanno per assaltarci la casa, stiamo parlando di un mondo nel quale se ci organizziamo magari il piccolo incidente, la piccola difficoltà si risolve in un modo meno drammatico di come invece potrebbe arrivare a risolversi in altri casi. Come dicevi molto bene te, è la percezione di sicurezza, quindi noi anticipiamo e aumentiamo quella che è la percezione di sicurezza. Già il fatto a livello mentale di avere un impianto antifurto delle telecamere collegate con la nostra centrale operativa che ci permette di vedere qual è la situazione nel momento in cui scatta un evento che può essere un'intrusione piuttosto che un malore come in questo caso, riusciamo a garantire l'intervento veramente in pochi minuti e in alcuni casi può anche salvare la vita. L'altra volta, perché noi ci siamo già visti appunto come abbiamo detto l'8 marzo, avevamo dato una panoramica generale ai vari servizi appunto di vigilanza, ma qui già siamo a parlare di qualche altra novità. Mentre avevamo comunque rinviato a una futura occasione, e questa potrebbe essere quella futura occasione, l'approfondimento invece dei temi legati alle investigazioni, perché voi oltre che Vigilar raggiungibile attraverso il sito vigilar.it, siete anche control service, control service.it. E allora qui siamo in un altro ambito, tutt'altro mondo. Sì, è un'altra società sempre gestita da me, ci occupiamo di investigazioni dove principalmente abbiamo i due ambiti, privato e aziendale. Il privato, lavoriamo ovviamente sull'infedeltà coniugale, dove portiamo elementi di prova che possono servire in una causa di separazione o di divorzio. Documentare se per esempio la controparte ha un'attività lavorativa, quindi ha un reddito non ufficiale, che però è importante nella valutazione della determinazione dell'assegno di mantenimento, sia in fase di separazione che di divorzio. Sono elementi che aiutano il nostro cliente. Lavoriamo molto, soprattutto nel periodo estivo, con i figli minori, quindi controlliamo i ragazzi sotto i 18 anni per vedere i movimenti che hanno, se fanno uso di sostanze stupefacenti o compagnie un po' borderline. In questo caso possiamo farlo perché i genitori hanno ancora la patria potestà e quindi possono richiedere il controllo. e molto spesso abbiamo visto che siamo riusciti ad intervenire nel momento giusto, cioè interrompere una situazione dove poteva sfociare anche in una tossicodipendenza, perché magari è intervenuto il genitore nel momento opportuno. Anche perché figli ne abbiamo e sappiamo esattamente quello che vuol dire avere la preoccupazione di vedere un figlio rientrare, mezzanotte, luna, magari un po' ubriaco, con le pupille e così, per cui avere la tranquillità. Poi in molti casi abbiamo visto che era più una preoccupazione del genitore piuttosto che un fatto. In alcuni casi siamo riusciti veramente a intervenire prima che magari si potesse trasformare in una dipendenza. Ecco, è la classica situazione nella quale quando poi leggiamo qualche fatto qualcuno dice no, ma i genitori cosa fanno? Ma perché? Ecco, i genitori che magari da soli potrebbero essere un po' più in difficoltà possono avvalersi di un aiuto importante da parte vostra. Si possono rivolgere ad un'agenzia investigativa che non c'è nulla di anomalo, nel senso molte persone si rivolgono a noi. Quest'estate abbiamo fatto almeno una decina di investigazioni sui ragazzi minorenni. E devo dire che questo vuol dire che i genitori seguono abbastanza i figli, si preoccupano e cercano di trovare una soluzione molto pragmatica, poi capire effettivamente quando escono cosa fanno. Poi ovviamente quando vedono che è una situazione tranquilla, si rilassano e magari rientrano serenamente nel loro ambito i genitori. Certo, anche in questo mondo e anche in questa sezione della vostra attività immagino che la tecnologia vi aiuti tanto. Siamo lontani dal giornale con i buchi per gli occhi? Sì, molto lontani. Abbiamo GPS che si possono installare nelle biciclette, nei motorini, ovviamente il localizzatore satellitare ci dà la possibilità di vedere dove si trova sempre una persona. Abbiamo telecamere per riprendere quello che stanno facendo, per cui la tecnologia si aiuta moltissimo. Questo nell'ambito privato, poi come ti dicevo l'altro ambito è quello aziendale, dove molto spesso, soprattutto adesso che si è ritornati un po' alla normalità, dove lo smart working se ne fa di meno, quindi le persone sono tornate in azienda, noi svolgiamo investigazioni sul corretto utilizzo dei permessi 104, per esempio, sulle malattie, gli infortuni dei dipendenti e soprattutto andiamo a analizzare quelle che sono situazioni particolari dove c'è palesemente una falsa malattia e noi andiamo a documentare questo tipo di attività. Ne racconto una ovviamente senza fare nomi e cognomi, però una persona che lamentava una tendinite, tanto che non riusciva a tenere il cellulare in mano e poi alla fine si è scoperto fare dei lavori in casa dove alzava di tutto. Pensavo fosse un campione di paddle, pensavo. Capita anche quello. All'epoca abbiamo fatto sempre un'indagine dove giocavano a tennis, ma il paddle ancora non c'era, l'evoluzione del tennis. Esatto, esatto. No, immagino poi che ci sia un po' anche tutta un'aneddotica divertente, no? Perché poi adesso c'è questo fatto dei social che fa sì che la gente si autosmascheri da sola senza bisogno di niente, no? Il primo controllino ai social lo fate? Il primo controllo lo facciamo sempre sui social. E quanti ne trovate che da soli si autodenunciano senza rendersene conto? Guarda, almeno il 60-70% si smascherano andando a vedere sui social perché c'è questa smania di voler documentare tutto quello che stanno facendo e quando perdiamo qualcuno perché capita che magari qualcuno ci sfugge perché non ha il satellitare, basta che guardiamo i social, pubblica dove è il ristorante. Lo dice lui, si registra. Lo ribecchiamo subito. Incredibile, incredibile perché poi in effetti sembrerebbe una cosa più ovvia del mondo se vuoi fare qualcosa di nascosto, non essere il primo a raccontare cosa stai facendo, insomma questo dovrebbe essere il primo consiglio, no? Tra quello e le serie tv, le crimes, no? Series e tutto il resto viene da pensare che siano tutti smalizziatissimi, cioè che uno dice so esattamente come fare per non farmi trovare, invece no. non ne tengono minimamente conto. È chiaro che ci sono anche alcune persone che non sono social oppure non pubblicano perché, però riusciamo a smascherarle lo stesso perché poi se uno ha una tendinite o un mal di schiena, va a fare la spesa piuttosto che fai dei lavori in casa o va a scaricare dei pacchi di notte da un corriere, sai, ovviamente il tutto documentato con dei video comincia a diventare una prova importante per il giudice del lavoro. Certo. Alessandro, come sempre quando si parla di cose interessanti il tempo vola e abbiamo un paio di minuti. In questi due minuti ti lascio un po' la possibilità di dire ai nostri telespettatori qualcosa di importante per quanto riguarda la tua attività, cioè convincerli. Per quanto riguarda Vigilar, volevo puntare un attimo sul fatto che al di là di quello che uno può pensare, gli impianti antifurto e le telecamere hanno un costo talmente abbordabile e soprattutto riusciamo a dare un servizio a noleggio per cui nell'ordine di 40-50 euro riusciamo a montare un impianto antifurto con delle telecamere e garantire un servizio di pronto intervento 24 ore su 24 perché molte volte la gente non sa, ma sai l'impianto quanto costa, 5.000, 6.000? No. Uno paga un Canon e l'impianto lo montiamo noi con dei nostri tecnici molto professionali che non sporcano perché è anche importante il fatto di entrare a casa dei nostri clienti, abbiamo sempre molto rispetto anche delle abitazioni private, installano l'impianto d'allarme e offriamo il servizio immediatamente lo stesso giorno, mediamente noi nel giro di una settimana dal momento che abbiamo stipulato un contratto di vigilanza riusciamo a installare l'impianto, molto spesso anche il giorno stesso o il giorno dopo, quindi già diamo un servizio che permette di aumentare quel livello di percezione di sicurezza di cui parlavi prima. Direi che questa cosa è molto importante perché in effetti questo timore di incappare in qualcosa di rischioso dal punto di vista economico c'è, uno dice dopo va a capire quando è lì, magari uno si informa da solo, va a vedere, trova cifre anche sbagliate eccetera, invece è molto rasserenante, da sicurezza anche questa cosa che hai detto. Ma poi il fatto che noi siamo la vigilanza a chilometro zero, nel senso che io sono il titolare, la sede è a Fanno, offriamo il servizio nella provincia di Pesolo, nella provincia di Rimini, ma siamo presenti. Altre vigilanze che hanno sede a Milano, a Roma, si ha una percezione più rarefatta, parlare con un commerciale è più difficile. Molto spesso con i clienti ci parlo anche io e mi fa anche molto piacere perché mi piace capire dove possiamo migliorare i nostri servizi. Quindi sicuramente diamo un servizio molto puntuale e rispondiamo a quelle che sono le esigenze, soprattutto rispondiamo. Ecco, perfetto, soprattutto rispondiamo e troviamo sempre delle soluzioni. Guarda, soprattutto rispondiamo, è la battuta perfetta per concludere la puntata. Grazie per essere stato con noi Alessandro, io mi auguro di averti di nuovo qua a raccontarci anche qualche altro aneddoto, ma soprattutto a raccontarci tutte le novità che la tecnologia e la grandissima professionalità che voi dimostrate può essere messa a disposizione dei nostri telespettatori, di tutti quelli che possono averne bisogno. Grazie, ringrazio i nostri telespettatori per aver seguito anche questa puntata di Casa Rossini, vi do appuntamento a una delle prossime puntate e vi invito a restare come sempre all'ascolto e in visione dei nostri programmi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.